Il 20 settembre del 2016 fu presentato il progetto Macerata, città amica delle persone con demenza. A quasi un anno di distanza la Presidente Berardinelli è molto soddisfatta del riscontro della cittadinanza. Il progetto è un progetto nazionale e Macerata era stata scelta sia per le dimensioni sia per la sua proverbiale caratteristica di accoglienza e ospitalità. Molte le iniziative fatte finora ad iniziare proprio dal locale di Piazza Mazzini, divenuto in poco tempo punto di aggregazione per molti cittadini. Senza grossi stravolgimenti una comunità si fa carico di difficoltà di qualche persona e di alcune famiglie. Grazie a un atteggiamento differente si fa un percorso insieme che può portare ad un cambio radicale, uno stile di vita diverso. Quindi abbiamo fatto della formazione sia alle categorie, e poi la seguiremo, sia alla scuola e alle famiglie, perché sono due percorsi che devono andare in contemporanea, abbinando delle attività di socializzazione, perché spesso non è la malattia che preclude la vita sociale, ma è la nostra incapacità a gestirla. Quindi siamo stati all'opera, una delle tre opere, abbiamo portato delle persone malate senza che nessuno se ne sia accorto, perché appunto è una cosa normale. Io a volte mi meraviglio anche che devo specificare queste cose, però purtroppo occorre farlo. E noi proviamo, siamo andati al cinema, insomma, e continueremo a fare tantissime altre cose normali, perché il nostro obiettivo è proprio quello di dare normalità alla persona in qualsiasi condizione e soprattutto in ogni stato di salute. A settembre molte altre iniziative del progetto scuola alla partecipazione all'Alzheimer Fest in Lombardia, per poi arrivare alla data del 24, quando ad un anno esatto dall'inizio del progetto si è organizzato una giornata evento. Parteciperà l'attore Leo Gullotta, che è stato magistralmente interprete di una persona malata di Alzheimer. Nel corso metraggio Lettera a mia figlia abbiamo invitato anche il ministro Lorenzin. Ricordo che il progetto è studiato dalle quattro università delle Marche, insieme all'Istau e all'Irca, e ringrazio tutti quanti, sia gli Atenei che gli altri istituti, e questo studio sarà oggetto di una pubblicazione, perché deve essere messo a disposizione di qualsiasi altra città voglia replicare questo tipo di progettualità.